La Giunta regionale ha stanziato un finanziamento di 2 milioni di euro per percorsi formativi a favore dei disabili. Si tratta, ha spiegato l'assessore alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani, di un importante intervento che ha come finalità l'inclusione sociale, l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. I percorsi formativi valorizzeranno attraverso i percorsi non formali ed informali, le competenze e le conoscenze utili al raggiungimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è promuovere le capacità dei soggetti disabili, individuando figure professionali al passo con i tempi, superando lo stereotipo secondo cui solo poche classiche figure professionali possono essere oggetto di formazione per disabili. Sono invece molti gli ambiti in cui lavorare, dall'agroalimentare al turismo fino al settore informatico. Prosegue l'impegno straordinario della Regione sui temi della disabilità e del sostegno alle fasce più deboli, ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca. Abbiamo incontrato le associazioni ed abbiamo annunciato il rifinanziamento della legge 41 per offrire più sostegno, servizi e assistenza ai disabili. Abbiamo previsto inoltre il raddoppio dei fondi per garantire loro sempre più diritti e opportunità.